è stato affermato che la decisione di mantenere ferri come consigliere di stato senza fornirgli un alloggio nel regno unito si è rivelata un problema costante per il re re carlo si sente frustrato quando il suo dovere pubblico viene messo in ombra dalle continue controversie che circondano il duca e la duchessa di sussex secondo quanto riferito da una fonte la decisione del re di non rimuovere ferri dalla carica di consigliere di stato ufficiale potrebbe aver evitato le potenziali conseguenze di una simile decisione ma significa che le discussioni sulla posizione del principe nel regno unito continuano anche se carlo mira a mostrare la sua arte governativa all'estero il nuovo monarca ha intrapreso importanti visite diplomatiche sia in francia che in germania nell'ultimo anno con la prima che mostra in particolare i forti legami del re all'estero data la sua bromance con emmanuel macron ma scrivendo per il times roya nicca ha affermato che i problemi privati di charl continuano a fare notizia nonostante il suo lavoro ha citato una fonte anonima vicina al re che avrebbe detto lo frustra che le questioni personali si intromettano nel dovere pubblico preferirebbe di gran lunga che l'attenzione fosse concentrata sul suo lavoro non sulla telenovela della vita privata è sempre frustrante quando le dinamiche familiari mettono in ombra il ruolo pubblico la chiave è la decisione di mantenere ferri come consigliere di stato il che lo rende uno dei sette membri della famiglia reale che possono sostituire il monarca nel caso in cui si trovino all'estero o non stiano bene i consiglieri di stato devono avere un domicilio nel regno unito secondo la legge ma ferri non lo ha più da quando il re ha chiesto ai sussex di lasciare il loro frogmore cottage dopo il loro trasferimento negli stati uniti grazie a tutti